Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, notizia shock dell'ultima ora. Abbiamo un nome, sappiamo chi ha ucciso, Sharon Verzeni, l'assassino, ha confessato. E prima di saperne di più, prima di scoprire finalmente la soluzione al mistero dell'estate 2024, vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 200 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Il secondo me Marco Liguori ha seguito giorno dopo giorno l'evolversi della vicenda di Sharon Verzeni e un clamoroso colpo di scena dell'ultimo minuto fornisce finalmente la risposta alla domanda chi ha ucciso Sharon pochi minuti fa è stato fermato un africano di 31 anni, un disoccupato, si chiama Moussa Sangaré, è l'uomo in bicicletta che ha confessato, sono stato io ad uccidere Sharon e il particolare che rende questa vicenda davvero agghiacciante è che Moussa ha confessato di averlo fatto senza motivo. Come già detto in precedenza, la vicenda di Sharon Verzeni ha avuto un'incredibile svolta, adesso sappiamo tutto e come detto quello che è successo rende la vicenda ancora più incredibile, ancora più surreale per certi versi agghiacciante amici di Youtube. ricordandovi che la vostra opinione è importantissima, vi invito a commentare, risponderò a tutti quanti voi amici di Youtube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul primo canale di Marco Liguori, ciao a tutti.